La Tristina oggi pomeriggio ha perso in casa contro il Trento. Sin qua nulla di nuovo rispetto ai risultati dell'Unione, che è ormai abituato alla platea di Fosi a dover ingoiare a Mauro ogni volta che scende in campo. Ciò che però a molti tifosi dispiace l'aver appreso che l'allenatore Massimo Pavanel ha resegnato le proprie dimissioni. La classifica oggi dice 18 punti, 24 partite, 14 sconfitte, 6 pareggi e solo 4 vittorie. Il K.O. odierno è stato l'ultimo atto di un percorso negativo, al punto che Pavanel ha sentito di dover fare un passo indietro per dare la possibilità a qualcun altro di fare meglio di lui. Guardando alla gara dopo 4 minuti dall'avvio, la Tristina si fa vedere in area avversaria consegnando il pallone al portiere. Meglio all'ottavo con Celeghin che conclude di sinistro colpendo l'esterno della rete. Al ventesimo buon inserimento degli uomini alabardati che si vedono stoppato un ingresso in area. A 27 minuti è il portiere Matosevic a salvare l'Unione su colpo di testa di Sipos. Primo spunto pericoloso del Trento che si rivede alla mezz'ora cercando il palo del portiere dal limite dell'area piccola e trovando un calcio d'angolo. Dal corner arriva il vantaggio ospite frutto di un tiro da fuori area sporcato da almeno due giocatori e terminato in fondo alla rete. Il rosso labardati incassano il colpo, la curva è ammutolita dinanzi allo spettro di un'ennesima sconfitta. Matosevic nei minuti finali del primo tempo fa suo un pallone alzato campanile. Nella ripresa palla la Triestina che tenta l'azione in velocità dove Felici fa tutto solo concludendo alla bene e meglio sfiorando il palo lontano. Si vola al settantunesimo con il Trento che ha in mano il gioco e prova il raddoppio dal limite dell'area con Ballarini. Frenato solo dal palo. Occasione per i padroni di casa da dentro l'area su palla rispinta ma la conclusione viene deviata lontana dalla porta. All'ottantottesimo contropiede dei ragazzi in maglia nera che portano Sangalli al raddoppio, chiudendo a doppia mandata ogni speranza giuliana. Il resto è archivio. Mercoledì alle 18 l'unione è attesa a Verona contro le Virtus con l'incognita di chi siederà in panchina.